Buon inizio settimana a tutti. Questa mattina pensavo proprio di quanto sia importante avere una ritualità in questo momento, accompagnata anche da dell'autodisciplina, perché nulla è cadenzato dalla normale attività. Devi averla te una disciplina, a partire da quando ti alzi la mattina e ti vesti come se andassi a lavoro. Sicuramente è utile partire da quel momento lì per poi crearti un tuo schema, ma anche e soprattutto decidendo cosa fare e non decidendo ok faccio un po' tutto. No, cerca di dividere quello che farai, non tutta una cosa, perché tutta una cosa non ti renderà produttivo al massimo. Credo che in questi anni ci siamo preparati a affrontare un momento di questo genere con tutti gli strumenti che abbiamo messo in campo nel tempo, tutti gli strumenti che ormai ci sono, videoconferenze, whatsapp video o qualsiasi altra cosa che ci consente di rimanere in contatto con i nostri clienti e curarli ancora di più. Questo è un momento in cui noi possiamo curare le persone, possiamo curare meglio anche i nostri immobili, possiamo aver cura di tutto ciò che la frenesia del quotidiano non ci consentiva di fare. È un momento veramente importante che potrà darci tantissimo e creare sicuramente delle nuove abitudini che poi utilizzeremo anche nel futuro e quindi, ripeto, è molto importante avere una ritualità, è molto importante avere uno schema delle cose da fare ogni giorno e quindi avere delle abitudini. Proprio per questo ho detto voglio fare un video al giorno, questa sarà la mia abitudine, un'abitudine per accompagnarvi durante queste giornate in cui insieme vedremo tante cose che ci saranno utili per affrontare al meglio questo periodo. Buona settimana a tutti e a presto! Grazie!